Continua il ritiro della Putiolana 1902 che opera sempre sul mercato per assicurare a mister Ivan De Michele una squadra di livello per la prossima stagione. La squadra Granata si è ritrovata nella giornata di lunedì allo stadio Domenico Conte. Continuano gli allenamenti, sono stati ufficializzati non solo Rinaldi ma anche Domenico Cuomo che farà parte del roster a disposizione dell'allenatore. La famiglia di Costanzo si sta muovendo inoltre sul mercato affinché possa assicurare di completare la rosa. In campo si sono visti già calciatori come Catinali il quale ritornerà e Giovanni Aliperta difensore di esperienza. I gironi ancora devono essere composti ma quasi presumibilmente tutte le big saranno nel girone A compresa il Pompei, compresa anche la Cerrana non dovrebbero esserci sorprese e di conseguenza sarà quindi una battaglia per il primo posto per il salto di categoria. La Putiolana sicuramente si farà trovare preparata perché l'obiettivo è tornare finalmente in Serie D. Grazie. 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 Grazie.